Buona la prima per la palacanestro Viola che conquista subito un'importante vittoria in casa della giovane Cusgatani imponendosi 75-94. Una partenza bruciante dei regini che con una prova grintosa inaugurano nel migliore dei modi la nuova stagione. Coach Cigarini è la sua prima panchina senior ed affiducia al regino Tommaso Russo in regia accanto a Maximovic con loro a Guzzoli, Capitana Binelli e Mavric. Il Cus risponde con Valle, Loiacono, Cuccia, Prioro, Ruiz e Corselli. Sin dall'inizio a dominare sono gli ospiti. Maximovic dimostra tutta la propria caratura giocando una partita davvero migliore in campo, giocando con grande intensità e realizzando un canestro dopo l'altro. Il gruppo sorprende per precisione d'impegno sbagliando pochissimo e realizzandolo triple su triple. A Guzzoli è infallibile al tiro ed in penetrazione. Bene Mavric anche al tiro. Il Cus Catania dal canto suo gioca con intensità ma non basta. Il divario arriva a sfociare fino a 30 punti di vantaggio. I nero aranci realizzano ben 57 punti nei primi due quarti. Nel terzo periodo i locali con coraggio giocano con maggiore grinta e recuperano parzialmente il gap, arrivando fino a meno 18 e vincendo il tempino. L'ultimo periodo però parte in scioltezza con un bel contropiede da Guzzoli. Valle, top scorer della gara, sarà l'ultima a mollare. I maessi gilli nero-arancio arriveranno dalle giocate di Ilario Simonetti. 19 punti di scarto finale a favore dei ragazzi di Cigarini che conquistano i primi due punti della stagione. La panacanestro viola ritornerà in campo domenica prossima, 8 ottobre alle 18, al Palacala Fiore contro l'Orlandina Basket.